siete in compagnia di sbs italian trovate altre storie su sbs.com.u barra italian o scaricate la sbs radio app il sito di sbs è tutto nuovo se volete trovare le trascrizioni di questo e di tutti gli altri episodi andate su www.sbs.com.au barra slow italian sbs.com.au slow italian quando il ciclone michaung si è abbattuto sull'india lo scorso anno ha portato vento fino a 110 chilometri orari e forti piogge sulla costa sud orientale del paese inondando città e campi secondo una prima valutazione dei danni solo nello stato di andhra pradesh sono andati distrutti 600.000 acri di colture ma non tutte le aziende agricole hanno subito la stessa sorte alcuni campi erano ancora pieni di piante forti e sane perché alcuni sostengono che sia dovuto alle pratiche agricole utilizzate un numero sempre maggiore di agricoltori sta iniziando ad adottare l'agricoltura naturale perché vede che può essere d'aiuto quando si verificano eventi meteorologici estremi ratna raju è uno di quelli che ha aderito all'idea nella sua fattoria di guntur nello stato meridionale dell'andhra pradesh c'è un odore pungente l'odore viene da un miscuglio di urina di mucca uno zucchero non raffinato noto come jaggery e altri materiali organici che fungono da fertilizzanti pesticidi e barriere contro il maltempo per le sue colture last december 4th a cyclone hit us all the surrounding crops fell but our five and a half acre farm stood strong we've been practicing natural farming here for the past four years because of natural farming the root system is deep and strong it can withstand the impacts of cyclones within a few days our soil absorbed all the water in neighboring farms water stood for seven to ten days l'andhra pradesh è diventato un esempio positivo dei benefici dell'agricoltura naturale e i sostenitori affermano che il sostegno attivo del governo è il motore principale del successo dello stato rajah kumari è responsabile del programma distrettuale per l'andhra pradesh community managed natural farming improving soil health is the key to natural farming soil health is key in natural farming and we achieve it with diversity of crops with diversity of crops we give the soil also more microbes diversity in microbes so it will give more nutrients to the soil secondo gli esperti questi metodi dovrebbero essere stesi a tutte le vaste terre agricole indiane dato che il cambiamento climatico e la diminuzione dei profitti hanno portato a numerose proteste degli agricoltori quest'anno ma il sostegno del governo a questi metodi alternativi rimane limitato di conseguenza la maggior parte degli agricoltori continuano a fare affidamento su pesticidi e fertilizzanti chimici sebbene efficaci nel breve periodo queste alternative chimiche degradano la salute del suolo nel tempo comportando costi più elevati e una qualità del suolo più scadente secondo nas suresch ricercatore del center for study of science technology and policy le iniziative del governo locale e federale hanno già incoraggiato circa 750 mila agricoltori dello stato ad adottare l'agricoltura naturale underpadesh has witnessed a transformative shift towards natural farming currently there are about 750 000 farmers following the natural farming practice the success to achieve this many number of farmers is mainly due to the establishment of a dedicated institute named raitu sadhikara samsita by the government of andhra pradesh we have also done a survey in andhra pradesh in 2018 and we have witnessed that the natural farming crops had shown much higher climate resilience during the flood point conditions whereas the conventional chemical based crops have resulted in degraded shape landra pradesh all'obiettivo di portare suoi 6 milioni di agricoltori all'agricoltura naturale entro il 2030 il governo indiano ha già investito oltre 8 milioni di dollari in questa iniziativa con quasi un milione di ettari di terreno a livello nazionale lo scorso marzo il ministro dell'agricoltura ha fissato l'obiettivo che il 25 per cento delle aziende agricole indiane adottino metodi biologici e naturali ma i primi ad adottare metodi biologici come mirabi chunduru sostengono di aver bisogno di un maggior sostegno da parte del governo e dei politici many farmers have changed to natural farming they are noticing the climate changes and seeing the losses suffered by conventional farmers if more farmers take up natural farming as it used to be in our childhood we can have similar healthy food soil and stable climate as it was in the past we can leave behind healthy food soil and earth for the next generations poiché questa pratica aiuta a mantenere in salute le piante e il terreno in vari tipi di suolo e in tutte le condizioni climatiche imprevedibili è vantaggiosa per gli agricoltori di tutta l'india dalle montagne alle coste dicono gli esperti inoltre la pratica di piantare culture diverse tutto l'anno significa che gli agricoltori possono produrre per raccogliere in qualsiasi momento dando un un ulteriore impulso al loro terreno e al loro portafoglio cliccate mi piace condividete commentate seguite sbs italian su facebook cliccate mi piace condividete